Ciao, sono Valentina Vezzali. Voglio parlarvi di una problematica che mi sta a cuore, Ebola. L'Africa occidentale ha vissuto drammatiche paure per questo virus che colpiva senza lasciare scampo. Ora la ricerca scientifica pare abbia trovato la strada giusta per sconfiggerlo, ma il suo passaggio ha lasciato numerose rovine, famiglie distrutte, bambini orfani, scuole chiuse e gravi emergenti sociali. A Morrovia, in Liberia, i missionari salesiani hanno avviato un progetto per assicurare a bambini orfani cibo, scuola e assistenza sanitaria. Per sostenere questo progetto, la Fondazione Don Bosco nel Mondo promuove a Roma per il 1 novembre la Corsa dei Santi, perché lo sport è un grande animatore di solidarietà e più numerosi saranno i partecipanti, più forte risuonerà il nostro appello. Se non potete partecipare alla corsa, potete comunque fare la vostra parte. Potete donare un euro mandando un SMS al 45598, oppure potete donare due euro chiamando sempre il 45598 da numero fisso. Io farò la mia parte e voi grazie.